Se c'è una cosa conosciuta di Roma, tanto quanto i suoi monumenti, sono i pini. I pini di Roma sono ovunque, sono dal centro storico, fuori imperiali, le grandi ville storiche, le vie consolari, un po' dappertutto. E sono decine di migliaia, anzi, si calcola che nella provincia probabilmente rimino a un milione. Ora, il rischio concretissimo è che il 90% di questi pini possa morire. Due anni fa sono stati infettati da un parassita, o meglio, un parassita li sta infettando, e ha il 90% di letalità. E dunque un rischio gigantesco. Cambierebbe il volto di Roma. Da due anni nessuno se ne sta occupando. Non succede niente. Curarli costa circa 50 euro, 50-70 euro a pino. Sostituirli, spiantarli, smaltirli, ripiantarli, 2.000. Ora, il Ministero per le politiche agricole e il Comune di Roma devono immediatamente stanziare una cifra adeguata. Non solo per il rischio che davvero Roma si possa un giorno svegliare senza più i suoi pini, ma per il fatto che economicamente sarebbe disastroso doverle sostituire. E dunque è il tempo di agire e è il tempo di farlo ora. L'azione lo ha chiesto al Comune, lo ha chiesto in un'interrogazione parlamentare. Per ora nulla è successo. Ci vuole un decreto sull'obbligo di contrasto. Bisogna farlo subito. Non possiamo fare come è accaduto in Puglia con la Xilella, cioè di piangere poi sul latte versato e come al solito arrivare dopo che l'emergenza è finita. Grazie. Grazie. Grazie.